Ciao, ti do il benvenuto in questo webinar il cui tema è allenamento funzionale del core. Io sono Valentina Del Monte e ti guiderò nella disamina di questo argomento. Allora, intanto la prima domanda a cui dobbiamo rispondere è che cos'è il core? In una concezione moderna di core, per core si intende tutti i muscoli che hanno un ruolo, che hanno una responsabilità nella stabilità del tronco e delle pelvi. Quindi capisci che la dicitura passata, tipo quella degli anni Ottanta in cui con core si intendevano i quattro addominali, è assolutamente superata. Se vediamo il concetto di core in questi termini, quindi qualsiasi muscolo che ha un ruolo nella stabilità del tronco e delle pelvi, proviamo a ragionare. Gli addominali assolutamente sì, i lombari sì, ma anche i glutei, gli schiocrulali, gli adduttori, i pettorali, tanto fino ad arrivare alla considerazione di dire. Ma qui sto parlando da scienziato motorio al bare, quando si parla di filosofia delle scienze motorie, ma se io effetto un esercizio con la caviglia molle, rilassata, o con la caviglia rigida, in effetti la mia stabilità si modifica. Questo per dirti che anche il gastrocnemio potenzialmente può essere considerato un muscolo del core, se con l'accezione core intendiamo appunto questo ruolo. E quindi ti sto già dicendo che quando si parla di core, e soprattutto quando si parla di funzione di core, non si deve mai guardare il distretto isolato, ma si deve guardare l'intero sistema, perché vanno prese in considerazione le intere catene cinetiche legate al movimento. Quindi il core che cos'è? Coinvolge tutti i muscoli che hanno un ruolo nella stabilità del tronco e delle pelvi, e è il fulcro di qualsiasi esercizio. Quindi che tu debba fare un'espressione di forza, che tu debba fare un'espressione di resistenza, di stabilità, il centro è il core. A parità di forza, di flessibilità, di esplosività con un altro atleta, chi ha il core più forte vince generalmente. Interviene costantemente in sinergia con tutte le catene cinetiche muscolari, questo l'abbiamo detto. Rappresenta il punto dove tutte le forze gravitarie che provengono sia dalla parte superiore che dalla parte inferiore, quindi discendenti quando si parla dagli arti superiori che scende verso il core, ascendenti quando si parla degli arti inferiori che salgono verso il core, il core rimane comunque il pulcro di tutte le forze. E queste forze, più sono in grado di incanalarne, più sono in grado di sopportarle a livello biomeccanico, migliore sarà la mia performance atletica, migliore sarà la mia salute. Se invece appena mi arriva uno stimolo esterno, cado, traballo, eccetera, allora significa che il mio core è debole, rischio di farmi male, e sicuramente la mia performance atletica non sarà efficace, insomma, o ottimale. Che cosa significa allenamento funzionale? Perché qua stiamo parlando appunto dell'allenamento funzionale del core. Allora, la dicitura classica che avrai già sentito in mille webinar miei compresi è l'allenamento funzionale è tutto ciò che migliora la vita di tutti i giorni. Quindi l'obiettivo è mia mamma viene ad allenarsi, il mio obiettivo è che nelle attività che lei farà poi nella sua vita, stirare, lavare i vetri, fare il cambio delle armadi, eccetera, le faccia meglio, le faccia senza risentimenti e soprattutto sappia sollevare i carichi nel modo corretto. Questo è il concetto generale di funzioni, di funzionalità. In realtà poi c'è, questo per quanto riguarda appunto il soggetto studentario, ma poi si parla anche di funzione sotto il portillo della performance atletica, eh? Quindi se parlo di performance atletica, quando si parla di allenamento funzionale significa tutto ciò che previene gli infortuni e significa tutto ciò che mi permette di stabilizzare meglio il tronco e quindi mi permette un'espressione migliore di forza. Sai benissimo che se un oggetto vibra, se io colpisco un oggetto e questo vibra, dissipa moltissima energia. Se io colpisco un oggetto e questo è rigido, è più probabile che l'oggetto si sposti, eccetera, o comunque farà un tragitto più lungo. Questo è proprio esattamente il concetto di core, di core stability. Ok? This is SportsScience.com Sponsored by ATS